Dopo aver girato tanti teatri per l'Italia, finalmente a Foggia, Luca Ciccolella. Esatto, dopo tanto tempo torno qui a Foggia ed è un po' un onore, un po' un'emozione per questo, perché sono partito da qui, ho iniziato a studiare qui, diciamo la mia passione è nata qui, con un laboratorio normalissimo alle scuole medie e poi da lì sono partito in giro per l'Italia, ho cercato un po' di studiare, di imparare, di fare fortuna e adesso mi fa piacere tornare qui per condividere questa avventura, questa esperienza, perché in realtà è il mio primo spettacolo completamente da solo, oltre ad essere un monologo è uno spettacolo del quale curo anche la regia, la scenografia e tutto il resto, insomma è il mio primo prodotto che faccio tutto da solo e quindi ci tengo parecchio. Questo spettacolo ha un titolo un po' particolare, lo diciamo? Sì, il titolo è Non volevo fare Ronaldo ed è un titolo particolare ma ha tutto un suo significato, perché è la storia di un ragazzo, un ragazzo che potrebbe essere chiunque di noi, che voleva diventare qualcuno nella vita, magari appunto come Ronaldo, che è il suo idolo, il fenomeno dell'Inter, che è stato diciamo l'idolo di tante generazioni, e voleva diventare qualcuno appunto avendo questo punto di riferimento, però nella vita poi quello che fa per guadagnarsi da vivere appunto è fare il pagliaccio da McDonald's che si chiama Ronaldo. Quali sono gli studi che bisogna fare per diventare un attore? Allora non credo che ci sia una strada predefinita, ecco io quello che mi sento di consigliare, soprattutto per chi come me parte magari da una realtà come quella di Foggia, e una volta avute le prime esperienze cercare di andare fuori e misurarsi con altre realtà prima di tutto, perché credo che quello che fa male non solo alla nostra città ma proprio all'arte in generale sia la chiusura e diciamo la tendenza ad essere un po' autoriferiti. Ecco io invece credo che il percorso poi ognuno se lo sceglie per sé, in base a quelle che crede siano le sue attitudini e qualità, perché non tutti possiamo fare tutto, però credo che l'importante sia aprirsi e cercare di conoscere nuove persone, di fare nuove esperienze perché sono quelle che ti indicano la via. Perché il pubblico foggiano dovrebbe venirti a vedere? Il pubblico foggiano io spero che venga a vedermi perché prima di tutto è importante per me, ci tengo tantissimo perché è un ritorno proprio perché ho voglia di condividere con Foggia quello che è stato il mio percorso finora e quello che è il senso che io voglio portare a teatro del mio spettacolo e poi perché è uno spettacolo bello, è uno spettacolo divertente ma è anche uno spettacolo che fa riflettere perché è la storia di un ragazzo, di un personaggio ma è una storia di ognuno di noi e racconta quello che ognuno di noi prova quando non riesce a fare qualcosa o non riesce a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, però tutto viene affrontato con molta leggerezza e autoironia. Appuntamento quindi il 16 e il 18 giugno presso il Teatro Auditorium Santa Chiara, sede dell'Associazione Apulia Felix, con in scena Non volevo fare Ronaldo. Grazie a tutti.